Ben trovati ai telespettatori di Le Fonti TV a questo nuovo appuntamento con Legal Corner. Oggi parliamo di responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal Decreto Legislativo 231 del 2001, un decreto che di fatto ha rivoluzionato il diritto penale che proprio quest'anno compie 20 anni. Nella puntata di oggi faremo un po' il punto sugli sviluppi di questa responsabilità degli enti e sulle modalità di prevenzione dei reati che sono ad essa connessi. Per farlo ho il piacere di avere in collegamento con me l'avvocato Fabrizio Sardella, fondatore e name partner dello studio legale Sardella. Avvocato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Allora, avvocato, abbiamo detto quindi 20 anni di Decreto Legislativo 231. Ad oggi quindi quali sono i risultati applicativi di questa norma e secondo lei sono necessari degli interventi, quindi anche di adeguamento? Guardi, sono molto contento di poterne parlare con lei e con i suoi telespettatori perché è un argomento molto interessante ed è un traguardo importantissimo per questo decreto legislativo che come giustamente ricordava ha segnato una rivoluzione, data l'unica definita copernicana proprio perché abbiamo visto cambiare sotto i nostri occhi il sistema giuridico penale intero. Quindi è importante essere già arrivati a 20 anni dalla introduzione di questo decreto legislativo che ha visto, ha identificato nelle imprese un centro di imputazione della responsabilità penale. Quindi ha introdotto la possibilità per le imprese di rispondere del reato commesso del loro interesse o del loro vantaggio. Il bilancio, 20 anni è il momento del bilancio, questo è giusto ed è il momento del bilancio che secondo me non può che essere positivo per questa norma. È una norma che ai suoi albori aveva davvero scatenato alcune grandi riflessioni contro l'applicazione possibile del diritto penale alle imprese e aveva introdotto non soltanto gli scettici, ci sono sempre, ci sono stati soprattutto l'inizio dell'applicazione di questa norma, aveva introdotto una serie di riflessioni importanti proprio in ragione della mancanza di una cultura giuridica di responsabilizzazione delle imprese. Oggi dopo questi 20 anni io credo che tutti siamo più maturi nell'affermare che le imprese possono a certe condizioni essere responsabili del reato commesso nei loro confronti, dai loro dipendenti, nel loro vantaggio e nel loro interesse. Quindi abbiamo introdotto questo argomento molto importante della responsabilità degli enti, il legislatore ha avuto una lungimiranza incredibile, ma non soltanto a livello nazionale, il legislatore italiano si è contraddistinto, qualche volta dobbiamo anche prenderci qualche merito, si è contraddistinto anche nel panorama europeo e direi mondiale, nel senso che la responsabilità degli enti così come è pensata nel decreto legislativo 231 del 2001 era una grande novità all'epoca non solo per noi, non solo per la legislazione italiana, ma per la legislazione europea quantomeno sicuramente, ma anche in virtù di quelle che sono le riflessioni contenute in questa legge, che sono condensate poi in questo decreto legislativo, anche addirittura per l'America, per il Nord America. Quindi è diventato un paradigma il decreto legislativo 231, quindi la responsabilizzazione degli enti contenuta in questo decreto, è diventato un paradigma che molti altri ordinamenti, penso per esempio a quello inglese con il bribery act o a quello spagnolo con la lei organica, nel corso degli anni successivi, quindi gli anni 10, 2009, 2010, 2012, 2015, hanno poi, passatemi il termine, copiato sostanzialmente sulla base del nostro decreto legislativo del 2001, cioè l'idea che sta dietro, il fatto che ci sia la possibilità di sanzionare un ente quando si consumi un reato dell'interesse al suo vantaggio e si trovi una connessione, quindi si trovi un'assenza di un modello organizzativo, di un sistema idoneo a prevenire in futuro, di verificarsi di tali eventi delittuosi, è un'idea vincente, è un'idea che ci è stata copiata da tanti altri ordinamenti, perché l'alternativa è non responsabilizzare del tutto l'ente oppure responsabilizzarlo sempre, quindi con una sorta di responsabilità oggettiva. Nessuno dei due però, la responsabilizzazione totale dell'ente, come la de-responsabilizzazione totale dell'ente, porta a un incentivo, cosa che invece è molto importante, cioè l'idea che sta dentro il decreto legislativo 231 e che in qualche modo va salvaguardata assolutamente, è proprio quella di responsabilizzare l'ente, di creare degli incentivi al comportamento lecito, al comportamento conforme quanto meno al codice penale, al rispetto della normativa penale. Questa è un'introduzione che abbiamo un po' digerito in tanti anni, 20 anni, abbiamo impiegato tanto però noi avvocati, gli imprenditori e anche la magistratura, leggendo le riviste di settore, si vede che i magistrati che seguono più frequentemente questa materia oggi sono davvero diventati profondi conoscitori ed estimatori, mi viene da dire, di questo decreto legislativo e della sua forma di responsabilità. Non credo che, alla luce di quello che ho detto, non credo che siano necessari degli aggiornamenti essenziali, forti, diciamo così, dei cambiamenti di rotta completi. Certo, qualcosa è migliorabile, certo, sicuramente andrebbe estesa alla platea dei possibili autori dei reati, quindi delle persone che sono interessate eventualmente alla responsabilità degli enti e in questo modo si potrebbe pensare a un affinamento del sistema organizzativo, del decreto legislativo, più che a una rivoluzione o un cambiamento. La forma di responsabilità che è prevista da questo decreto legislativo continua ad essere attualissima e continua ad essere, come si può dire, vincente. Abbiamo visto proprio decrescere, contenersi il rischio di cognizione dei reati, disincentivando, creando questo disincentivo importante al comportamento illecito da parte delle imprese. Quindi, possibile avere degli affinamenti? Sì, probabilmente la strada giusta è quella di perfezionare, visto che siamo arrivati a 20 anni dalla introduzione, forse un tagliando della normativa potrebbe essere lì da venire, nella sua parte generale dico, anche perché di taglianti di altro tipo, nella sua parte speciale, di piccoli aggiustamenti ne sono avvenuti molti nel corso degli anni, ma direi che la cosa essenziale per migliorare questo sistema che funziona molto bene è quello di introdurre un mecanismo certo della valutazione del modello organizzativo. Quindi cercare di modificare o di imbrigliare un po' di più la possibilità della magistratura di interpretare il modello organizzativo secondo alcuni elementi essenziali, quindi secondo alcune linee guida. Più stiamo vicini a cannoni rigidi, più gli imprenditori si sentono tutelati e disponibili nel costruire un modello organizzativo. Insomma, il concetto che voglio passare è che se dal punto di vista legislativo ci fosse la possibilità, l'attenzione, la volontà di estendere a una platea maggiore possibile l'introduzione dei modelli organizzativi, dovrebbe parimenti dire quali sono i parametri che il giudice andrà a valutare, il legislatore dovrebbe dire quali sono i parametri che il giudice andrà a valutare nel caso in cui si verificasse un reato. In questo modo l'imprenditore sa, saprebbe, come meglio muoversi all'interno di questi per poter organizzare la propria attività di imprese. Anche il meccanismo diciamo così pensato ad oggi sulla creazione di linee guida delle associazioni di categoria, penso a quelle di Confindustria in primis, è un meccanismo ottimo, funziona bene, dovrebbe essere forse più veloce l'adeguamento di queste linee guida in modo da poter individuare subito, a pochi mesi diciamo così dall'uscita delle nuove norme, dei nuovi reati per i quali l'ente può rispondere, individuare subito, dicevo, i procedure, i protocolli che vengono ritenuti migliori per prevenire questi reati. Ecco, quindi come diceva lei, una svolta epocale, venti anni diciamo intensi insomma per un po' anche digerire all'inizio questo decreto. In questi venti anni anche i reati presupposti alla responsabilità si sono moltiplicati, sono diventati numerosissimi. Da ultimi ricordiamo proprio i reati tributari insomma introdotti di recente. Cosa stanno facendo quindi le aziende per prevenire questo tipo di reato? È vero, nel corso di questi venti anni sono stati sfruttati dal legislatore per introdurre tutta una serie di nuovi reati all'interno del decreto legislativo 231 del 2001. Una scelta voluta, voluta e richiamata fin diciamo così dalla legge delega del 2000 riguardo proprio l'introduzione della responsabilità degli enti nell'ordinamento italiano. Hanno voluto introdurre un sistema in maniera graduale, quindi si è partito da uno schema generale su come è costruita la responsabilità degli enti, a cui ho già steso le lodi rispondendo alla domanda precedente e poi piano piano sono stati introdotti una serie numerosa di reati che sono in qualche modo diventati importanti e sono stati percepiti come maggiormente importanti nel corso degli anni. Quindi in questi venti anni abbiamo assistito alla crescita, talune volte in maniera anche criticabile, inserendo alcuni reati di difficile applicazione pratica per le imprese, abbiamo visto però la crescita dei reati, del numero dei reati per i quali risponde eventualmente la società quando vengono commessi nel suo interesse e nel suo vantaggio. abbiamo visto soprattutto il punto di svolta, sicuramente è stato nel 2007-2008 con l'introduzione del novero dei reati presupposti a responsabilità dell'ente, dei reati colposi commessi con violazione della norma antinfortunistica. Contestuale peraltro al cambiamento della vecchia legge 626, oggi diventato testo unico sicurezza, decreto legislativo 81 per l'appunto 2008. Con l'introduzione di quel decreto legislativo nella responsabilità degli enti c'è stato un ulteriore cambio di passo nell'applicazione dei modelli organizzativi, nell'estensione della platea delle imprese interessate e anche, diciamo così, nel lavoro giurisprudenziale che ci sta dietro sull'accertamento dei modelli organizzativi e della loro bontà a prevenire realmente i reati. Quindi quel punto di svolta, l'introduzione di reati colposi nella responsabilità degli enti, ha determinato la crescita del numero di imprese potenzialmente interessate e contestualmente ha anche, diciamo così, dato il via a una serie di nuovo fermento sulla creazione dei modelli organizzativi. Ecco, siamo arrivati nel 2020, tardi 2019 con la legge 157 del decreto fiscale e poi con il ricepimento della direttiva PIF nel luglio scorso, siamo arrivati ad un nuovo momento di cesura, come diceva lei, una cesura importante perché il numero dei reati cresce, ma qualitativamente cresce quando vengono introdotti dei reati che hanno una grande applicazione pratica giurisprudenziale e che hanno un impatto sostanzialmente su tutte le imprese. Nel 2008 abbiamo avuto la sicurezza, nel 2020 abbiamo avuto i reati tributari. L'introduzione di quelli ci si aspetta, mi aspetto, che possa in qualche modo determinare un nuovo riavvio, un nuovo interesse, un rinnovato interesse per i modelli organizzativi, soprattutto per come costruire questi modelli organizzativi, perché i reati tributari erano rimasti un po' alla finestra ed era l'ultima grande area di reati che non era compresa nella responsabilità degli enti, seppure, direi in maniera evidente, senza dover essere studiosi della materia nell'economia, ci pare chiaro a tutti che il momento essenziale, uno degli elementi essenziali a cui l'ente può mirare per massimizzare il suo profitto è il risparmio fiscale, ahimè anche illecito. Quindi quando quel risparmio diventa illecito, da oggi, diciamo dal luglio del 2020, risponde anche la società per il reato tributario. Come vengono prevenuti? Questa è una domanda interessante ed è forse uno dei cuori di questo problema. Possono essere prevenuti, le imprese si stanno muovendo di nuovo un po' alla cieca, in virtù di quello che dicevamo prima, nel senso che non ci sono state linee guida chiare, non sono ancora intervenute linee guida chiare su come prevenire correttamente questi reati. Le imprese si stanno muovendo, stanno cercando di adeguare i propri modelli, chi già ce l'ha e di crearne uno nuovo, chi invece non ce l'ha, proprio in ragione di prevenzione di questi reati, facendo un'autovalutazione del rischio, coinvolgendo il loro supporto contabile, interno o esterno che sia, commercialista di riferimento o l'organo di controllo che su questo ha sempre avuto un grande impatto, cioè il collegio sindacale. Quindi è una valutazione del rischio a tante mani, ci sono le mani del consulente che aiuta nella realizzazione di questo, c'è l'autovalutazione interna e c'è il collegio sindacale che supporta molto le imprese in questa nuova valutazione del rischio. Finito il lavoro di valutazione del rischio, quello che la società intende fare oggi è solitamente basarsi sulle risultanze di questa valutazione. Se siamo più in una situazione di rischio basso, non abbiamo quindi una storia di criminalità fiscale, abbiamo un controllo, abbiamo l'acce e l'acciuoli, come si suoleva dire, molto importanti dal punto di vista del contenimento del rischio fiscale, allora si valorizzano quelli, quindi si passa in rassegna l'area dei reati societari, che era già prevista dal lungo tempo come potenzialmente foriera di responsabilità penale degli enti e in seguito si prendono, si mutuano le stesse procedure per la prevenzione dei reati fiscali. È un atteggiamento possibile, a mio giudizio condivisibile, almeno così prima facile, di primo acchito, perché è importante ricordare che il reato tributario, il reato fiscale nasce solitamente da una errata o volutamente errata, quindi da una dolosa falsificazione del documento civilistico, quindi del bilancio. Nel bilancio si riportano delle poste non vere, per esempio una fattura per operazione inesistente e transita automaticamente nel dichiarativo fiscale e si ha quindi il risparmio fiscale, che è un po' una conseguenza del falso in bilancio, della posizione nel bilancio della fattura per operazione inesistente, quindi prevenendo a monte quel comportamento se previene a valle l'illecito risparmio fiscale. Altrimenti, se il rischio risultasse molto elevato, c'è la possibilità, e qui la dottrina, anche i pubblici ministeri che scrivono sulle riviste di settore, caldeggiano questo, di mutuare le modalità preventive dal cosiddetto tax control framework, che è previsto nel nostro ordinamento per le imprese di grandissime dimensioni, dal decreto legislativo 128 del 2015, che sostanzialmente impone, aiuta a costruire un sistema di cooperative compliance, di colloquio con l'agenzia delle entrate, quindi una trasparenza collaborativa, un aumento della trasparenza sempre maggiore, di modo che ci possa essere talmente con penetrazione tra l'impresa privata e l'agenzia delle entrate, il pubblico, il controllore, che diventi quasi impossibile realizzare l'illecito tributario, quindi usare degli schemi quando non sia possibile raggiungere la cooperative compliance, perché è prevista per legge solo per alcune aziende, come dicevo quelle più grandi, per quelle più piccole che si sentono, si misurano a forte rischio tributario, mutuare quei presidi previsti dal decreto legislativo 128 del 2015 potrebbe essere uno strumento utile per aumentare l'efficacia del modello organizzativo. Ecco, quindi diciamo, per chiudere un po', i reati che hanno suscitato maggior interesse, come diceva lei, sono quelli colposi. Cosa quindi devono prevedere i modelli organizzativi per prevenire il reato colposo, secondo lei? Sì, diciamo il passo indietro, a ritroso abbiamo parlato dei reati tributari come ultimo grande avvenimento di cesura sull'introduzione di nuove fatti specie, andando indietro, dicevo i reati colposi sono stati il momento di cesura della fine degli anni 2000, quindi del 2008. Sono diventati il momento di cesura perché per la prima volta all'interno di uno schema nuovo come quello del decreto legislativo 281 del 2001 si è introdotto anche la possibilità per l'impresa di rispondere di reati commessi contro la volontà di chi li ha posti in essere, perché il colposo è così, cioè prevede l'assenza di dolo, prevede l'assenza di volontà. Per questo tipo di reati lo schema mentale che si usa è completamente diverso, cioè non si può prevenire un reato colposo controllando le azioni fraudolente del soggetto che lo vuole compiere, perché semplicemente la persona, l'imprenditore, il datore di lavoro che commette una violazione della norma antifortunistica non lo fa con la volontà di farlo e quindi non è prevenibile tramite una modificazione della sua volontà. Quello che bisogna creare, come abbiamo visto e come ne sono un fuggito esempio, l'articolo 30 del decreto legislativo 81 del 2008, bisogna creare dei sistemi, una compenetrazione con i sistemi delle regole precauzionali, quindi abbiamo bisogno astrattamente di sistemi di prevenzione, norme precauzionali che diano dei sistemi di prevenzione, quindi dicano quali sono le norme minime per evitare che qualcuno si faccia male al lavoro o che si faccia un inquinamento ambientale, sono queste le due aree macro dei reati colposi, bisogna creare delle norme minime che sono delle norme tecniche, l'imprenditore, l'impresa poi dovrà rispettare quelle norme tecniche e controllare che rispetto avvenga costantemente, quindi non è un profilo di azione sulla volontà, ma è un profilo di prevenzione vera e propria, direi che è un po' l'ambito di elezione di questi modelli organizzativi richiamati nel decreto legislativo 231 del 2001, essenziale è che ci sia un riferimento a una normativa tecnica esterna, il legislatore del 2008 secondo me aveva colto del segno con quell'articolo 30 in cui diceva per fare un buon modello organizzativo, ricollegandomi alla prima domanda che lei mi faceva come possiamo migliorare questo decreto legislativo, per fare un buon modello organizzativo che è un modo di migliorare il decreto legislativo 231 del 2001 è necessario rifarsi a una normativa tecnica di settore che era ai tempi la OHSAS 18001, un british standard, oggi transitato sostanzialmente nella ISO 45001, quindi un sistema diffuso su base europea e su base ISO. Il rispetto di quella normativa, che è una normativa come dicevo tecnica, porta con sé automaticamente una maggiore capacità preventiva dei reati commessi con violazione della norma antinfortunistica e quindi fa scendere gli incidenti sul lavoro e la mortalità che questo può comportare. Lo stesso si dovrebbe fare, a mio giudizio, sui reati colposi di diversa natura come quelli ambientali, quindi siamo un po' in attesa, questo è uno degli affinamenti che ci potrebbero essere, della crescita del decreto legislativo 231 maturando, secondo i canoni che vorrà il legislatore identificare, verso un paradigma che ci dica sostanzialmente che le norme tecniche del settore ambientale e MAS ISO 14001 debbono essere prese come riferimento per contenere il rischio di sviluppare questi illeciti ambientali. Anche in questa ultima area che le ha citato, quella dei reati commessi colposamente, il decreto legislativo 231 ha colto del segno, anzi forse il suo ambito di elezione, ci aspettiamo che con l'aiuto del legislatore possa continuare nella funzione che questo decreto ha avuto fin dal suo inizio, cioè in quella funzione pedagogica per le imprese. Le imprese, soprattutto quelle piccole del tessuto del panorama italiano, hanno bisogno, il panorama economico e imprenditoriale italiano, hanno bisogno di una guida. Bene, avere un modello organizzativo 231, avere un organismo di vigilanza che lo vigila e avere una capacità così di conoscenza della normativa, quantomeno di quella penale, è sicuramente un elemento centrale ed essenziale per poi prevenire davvero il reato e avere un sistema economico e imprenditoriale più sicuro, più conforme e più trasparente. Bene, Avvocato Sardella. Io la ringrazio, ci ha fatto ripercorrere in maniera sintetica e chiara con questi 20 anni di responsabilità amministrativa degli enti. Grazie Avvocato Sardella, partner e fondatore dello studio legale Sardella. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi e vi auguro tutti una buona prosecuzione. Grazie, io ringrazio i tre spettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.